E' martedì 1 marzo, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolisa e questa mattina in regia Marco Presutti. Guardiamo subito le notizie. Continua a far discutere il licenziamento di decine di precari della protezione civile, i cui contratti sono scaduti ieri. Solidarietà ai lavoratori e l'invito al Presidente Frattura a trovare una soluzione al problema arrivano da tutte le forze politiche, a cominciare dal capogruppo in Consiglio regionale del PD, Francesco Totaro. Ascoltiamo Anna Maria Di Matteo. L'avvertenza dei precari della protezione civile continua a tenere banco. Ieri sono scaduti gli ultimi contratti non rinnovati e dunque decine di lavoratori sono stati rimandati a casa con conseguenze gravissime sugli stessi precari, ma anche sulla ricostruzione che rischia lo stop, nonostante, va ricordato, debba essere portata a termine entro il 31 dicembre del 2018, data questa stabilità dal Governo centrale. Allora, a sostegno dei precari, si è schierato il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Francesco Totaro, che ha rivolto un appello al Presidente della Giunta Frattura facendo leva sulla sua sensibilità e invitandolo a trovare una soluzione immediata che possa tutelare i quasi 200 lavoratori impegnati sul fronte della ricostruzione post-terremoto. Il 29 febbraio sono scaduti anche gli ultimi contratti di 97 professionisti vincitori di concorso subentrati nella neonata Agenzia regionale per la ricostruzione, dichiarato l'esponente del PD. A loro vanno aggiunti gli 84 licenziati il 1 aprile del 2015 e che si trovano senza reddito e ammortizzatori sociali. Totaro ha chiesto anche l'intervento del Prefetto affinché si riapra il tavolo di confronto per arrivare quanto prima ad una soluzione che tuteli i livelli occupazionali dei lavoratori impegnati da oltre 10 anni all'interno del sistema Regione Molise. E se Totaro si appella alla sensibilità del Governatore, l'Associazione Unione Democratici del Molise e il circolo di ripabottoni del PD attaccano frontalmente il Presidente della Regione e il Consigliere Ciocca accusandoli di aver smantellato la protezione civile, brindando sulla pelle dei molisani. Non è certo tenero il coordinatore regionale di SEL, Gigino D'Angelo. Ingiustificatamente il Governo regionale ha deciso di licenziare 84 professionisti non curandosi di un diritto maturato dai lavoratori che si trovano quindi senza reddito e che sono stati costretti a tutelarsi in tutte le sedi competenti. E per Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia della protezione civile un tempo fiore all'occhiello della nostra Regione, non resta più nulla se non la disperazione di decine di lavoratori e delle loro famiglie rimaste ormai in mezzo alla strada. Intanto il Consiglio regionale torna a discutere di sanità e davanti a Palazzo Moffa torna la protesta. La seduta in programma oggi dalle 10 è al primo punto all'ordine del giorno una proposta di legge firmata dal Governatore Paolo Di Laura Frattura e dal Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno che prevede l'abrogazione di alcune norme contenute nella legge regionale del 2008 proprio in materia di sanità. Per questo il Forum per la difesa della sanità pubblica ha annunciato che darà vita ad un nuovo presidio in contemporanea e con i lavori dell'Aula. E in occasione della giornata delle malattie rare al Neuromed di Pozzilli si è fatto il punto sulla ricerca ma si è parlato anche delle difficoltà che si incontrano in Molise per le persone affette da queste patologie. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Finora nel mondo sono state individuate tra le 7 e le 8 mila malattie rare l'80% delle quali di origine genetica. In Europa si stima che le persone colpite siano tra i 20 e i 30 milioni. Per chi si ritrova in questa situazione le difficoltà si moltiplicano visto che spesso e volentieri una cura risolutiva non esiste. Ci si aggrappa alla scienza e ai ricercatori, ogni giorno in trincea per trovare una soluzione, nonostante la cronica carenza di fondi. La giornata organizzata al Neuromed è servita per confrontarsi ma anche per apprezzare i progressi fatti dal Centro di Neurogenetica e Malattie Rare dell'Istituto di Ricerca di Pozzilli. Particolare attenzione viene prestata proprio allo studio della genetica. La genetica decide, ha un ruolo decisionale nelle malattie rare, è un argomento particolarmente complesso. Pensate che le malattie rare per l'80% trovano una natura genetica, cioè difetti nel patrimonio ereditario, cioè difetti nel nostro DNA. Conoscere la mutazione che causa una specifica malattia è essenziale. Solo così si può intervenire dal punto di vista terapeutico e si può prevedere anche come la malattia stessa venga trasmessa ai familiari. Lottare contro certe patologie è durissima, ma lo è ancora di più in piccole realtà come il Molise. è emerso dalle testimonianze dei pazienti e dei rappresentanti delle associazioni che si occupano di malattie rare. I problemi che si riscontrano con una malattia rara sono tantissimi. Il problema fondamentale che esiste purtroppo in una regione così piccola è quello di sentirsi comunque isolati e non veder riconosciuti i propri diritti. Perché sappiamo bene che un malato raro affetto da una patologia rara ovviamente tutto diventa raro. Dalla diagnosi, dal riconoscimento di un PDTA, ovvero di un piano diagnostico terapeutico assistenziale, alle cure che ovviamente non ci sono. e quindi le malattie rare oggi possiamo considerarle più che rare orfane proprio perché i farmaci sono orfani. Bene, è tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura il giornale del Molise.it Sanità sui piani operativi, l'ultima possibilità tra frattura, ruta e leva, accordo sempre più lontano. Questo è il titolo del pezzo di apertura a firma di Anna Maria Di Matteo. Vediamo le notizie in evidenza. Una bella notizia per tutti i cestisti del Molise. San Giuliano di Puglia, la nazionale giovanile di basket, inaugura il nuovo palazzetto dello sport. Anniversario record a Frosolone. Angela e Luigi Prioletta festeggiano 81 anni di matrimonio. Riti della Pasqua a Campobasso iniziano le prove del Takeover Ray. Rotary Club Isernia alvia due progetti per rilanciare il turismo per la rieducazione dei detenuti. Il depuratore del porto non ce la fa più, si parla di termoli. Vietati nuovi allacci e subentri alla rete idrica. Riconversione degli ospedali. Anche in Molise gli ospedali di comunità. Un pezzo a firma di Mino Dentizi. Area di crisi. Le RSU Dullo Zuccherificio chiedono l'estensione anche al Basso Molise. Edilizia scolastica. Movimento 5 Stelle Ance Molise. Chiedono interventi urgenti. Ed era il giornale del Molise. Punto IT. Proseguiamo la lettura dei giornali locali con primo piano Molise. Elezioni a Isernia. Danilo Leva. Per vincere c'è bisogno della sinistra. Questo è il titolo di apertura. Il deputato rilancia primarie e alleanze. A meno che qualcuno pensi di ripartire da quel che resta del PD. E da Patriciello. Questo è il commento di Danilo Leva. In taglio alto cade dal tetto operaio di 55 anni. Muore dopo 9 giorni di agonia. L'incidente è avvenuto a Tufara. La vittima è Giuseppe Delia di Yeltsi. A San Giuliano di Puglia inaugurato il Palazzetto degli Angeli. Il taglio del nastro con la nazionale junior di basket. Campo Basso. Ritorno alla normalità per gli alunni della Scarano. Da ieri lezioni di mattina in via Roma. Unione Civili. Bregantini tuona un grande pasticcio educativo. Questo è il commento del Vescovo dopo il sì del Parlamento. Sanitari ordino governatore e parlamentari ancora distanti. Area di crisi. Forza Italia contro l'allargamento. Nunzia De Girolamo interroga il ministro. Isernia. Carenza di medici al Veneziale. Pastore provoca. Spostateci tutti a Campo Basso. Protezione Civile. Da oggi a casa i 97 tecnici precari. Appelli bipartisan a riaprire la vertenza. La notizia dall'Abruzzo d'Avvasto. Primari. Amato lancia la sfida a Menna per un confronto pubblico. Vediamo le notizie sportive. La curiosità. Marzo. La Disi. Spezzetta. Lupi impegnati solo a Selvapiana. Le Pentre. Due pareggi per soppesare. La svolta. Agnone cambia rotta. Isernia ci prova. La top 11 Mingione Ferrari e Guadalupi nella formazione del 26esimo turno. Andiamo a vedere adesso il quotidiano del Molise. Si parla di sanità in apertura. Sanità step decisivo in consiglio sul riordino fumata nera tra ruta e frattura. Intanto il forum torna in presidio. Oggi a Palazzo Moffa in discussione l'abrogazione del vecchio piano di rientro del 2008. Vediamo poi le notizie in taglio alto. Precipita dal tetto. Operaio muore dopo dieci giorni di agonia. Campo Marino evade dai domiciliari per andare a bere al bar. Arrestato. Noleggiavano auto usate dai killer della Camorra. Venafro botte da orbi nell'ennesimo sabato sera violento. Torniamo a centropagina. Si parla di unioni civili. Bregantini pochi figli. Causa crisi dei valori. Protezione civile. I partiti difendono i 180 precari. Da Campobasso. Scalano primo giorno nella nuova scuola. 81 anni d'amore. Insieme. Matrimonio record. Matrimonio da record. Le notizie sportive. Serie D. L'Isernia si gode il pari d'oro ottenuto contro la Samb. L'ordinanza allo stadio sarà permessa. La vendita di alcolici. Serie D. Lupi. Rinaldi ad Agnone. Meritavamo di più. Ma è arrivato un buon punto. Eccellenza. Venafro e Sesto. Tra le grandi. A suon di gol. E vittorie. Roboanti. E dal quotidiano andiamo alla prima pagina della gazzetta del Molise. Studiare in Molise? Sì, ma dal Salento. E questo è il titolo di apertura. Fondazione Molise Cultura firma l'intesa con l'Università di Lecce per studi e ricerche sul Molise. Ma non c'è l'Unimol? Si chiede la gazzetta del Molise. E cosa faranno i giovani e i dottorandi molisani? La ruota di scorta. Questo è l'amaro commento. Vediamo a chi va all'Oscar del giorno. Ad Enrico Perretta. Mentre il tapiro a Vincenzo Cotugno. Andiamo adesso a futuro Molise. Vediamo l'apertura. Per l'attualità. Da Venafro. Don Salvatore Rinaldi. Dedica il suo premio a Don Primo Mazzolari. Per la politica Isernia Elezioni parla Stefano Testa. Le dichiarazioni di Melogli hanno portato l'implosione di una coalizione di centrodestra ormai inesistente. In taglio alto Scarabeo PD assente ed evanescente. I programmi operativi sanitari così come proposti non mi convincono. Parla anche Danilo Leva. A Isernia il PD ha deciso di fare le primarie dopo le elezioni comunali. Siamo in un totale stato confusionale. E dalla stampa locale passiamo adesso ai quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera a Tripoli. Tra gli agenti USA, gli 007 in aeroporto, il segretario americano alla difesa si ha una guida italiana. È un reportage quello che propone il Corriere della Sera. Uomini delle squadre speciali anche da Francia e Regno Unito ci aiutano contro l'Isis. Poi andiamo a centropagina dove si parla della polemica sul caso Vendola. Le divisioni sul caso Vendola, Boldrini, no all'utero in affitto, la presidente della Camera, rischi di sfruttamento delle donne. Poi in taglio basso si parla dell'Oscar a Morricone e a Di Caprio. Di Caprio è il sogno dell'Oscar a quattro anni. Mamma e papà mi portavano sempre alle audizioni. Adesso lotto per l'ambiente. E dal Corriere della Sera andiamo alla prima pagina di Repubblica. Migranti, assalto al muro. Questo il titolo di apertura. Centinaia di profughi abbattono la barriera tra Grecia e Macedonia. Scontro con la polizia. Tensione per lo sgombero della baraccopoli di Calais, Gentiloni, Europa, sull'Orlo. Del baratro bella foto notizia a centropagina. Si parla del trionfo di Leonardo Di Caprio che ha ricevuto l'Oscar. Trionfa il Di Caprio ecologista, dobbiamo salvare la terra. Morricone l'Oscar alla mia musica più difficile. C'è poi di spalla una interessante analisi di Concita De Gregorio, i diritti dell'amore e quelli dei bambini. Si parla del caso Vendola. Dalla Repubblica, andiamo alla prima pagina del quotidiano di Torino, la stampa. Battaglia sul confine dei disperati. Centinaia di migranti bloccati da giorni in Grecia abbattono le barriere per entrare in Macedonia. Confermati i timori italiani sull'emergenza Balcani, scontri anche a Calais, le ruspe buttano giù le tende dei rifugiati. Anche qui bella foto notizia di Leonardo Di Caprio con Kate Winslet. Finalmente Di Caprio, un Oscar atteso. 20 anni prima statuetta per l'attore. L'Italia applaude la vittoria di Ennio Morricone. E dalla stampa passiamo a vedere la prima pagina del quotidiano romano, il tempo. Dopo le primarie ci vogliono le primarie. Gioco dell'oca a destra ai gazebo di Salvini. Vince Marchini, ma il leader leghista frena e passa la mano a Berlusconi, che però insiste su Bertolaso. La Meloni torna? Sì, no, forse. Vediamo poi di spalla. Arriva la stangata. Bollette elettriche più costose. Parla il comunista Rizzo sul caso Vendola. Se ci fosse stato ancora Stalin, Niki non sarebbe papà. E andiamo all'avvenire. La prima pagina del quotidiano della conferenza episcopale italiana apre sulla vicenda migranti. Migranti le due vie. Carichi e feriti alla frontiera macedone. Sbarrata a Roma profughi siriani con i corridoi umanitari. Tensioni e scontri in Grecia. A Calais cominciato lo sgombero della baraccopoli. Appello del Papa aiutare i rifugiati e chi li accoglie. A centro pagina il caso Vendola divide. Boldrini, donne sfruttate. Di spalla si parla di malattie rare, ma i malati sono un milione. Ancora pochi gli investimenti sulla ricerca e sulla cura. Andiamo al fatto quotidiano. Vietato arrestare i ladri. Questo è il titolo del fatto. Questa mattina grandi riforme. Gli effetti della legge del governo sulla custodia cautelare. Il PG di Venezia. Obbligati a scarcerare topi d'appartamento e rapinatori. Poi a centro pagina una notizia che riporta solo il Fatto Quotidiano stamattina. Morucci, stragista di Via Fani, lavora nelle società di security degli ex Ross Mori e Dedonno. Le strane convergenze 38 anni dopo la strage di Via Fani. E davvero l'Italia è una nazione di misteri. Proseguiamo con la lettura di Libero. Si parla di pensioni in apertura. Nuovo assalto alle pensioni, nudi alla meta. Truccandolo da taglio delle tasse. Il governo è pronto a rimpicciolire ancora l'assegno previdenziale. Meno contributi in cambio di 43 euro in più in busta paga. Ecco quanto ci costerebbe a fine carriera. Casa espropriata. Se si saltano sette rate di mutuo, il PD si spacca sull'ultimo regalo alle banche. Davvero una vergogna. Vediamo a centropagina la vignetta di Benni che ritrae Silvio Berlusconi. Silvio deposita il nome del partito del centrodestra. Salvini in retromarcia su Roma. E dal Libero passiamo alla prima pagina del quotidiano romano, il messaggero. Libia, l'Italia, guidi la missione. Il segretario americano alla difesa. Roma si offerta. Noi la appoggeremo con forza. Coalizioni in campo non appena si forma il nuovo governo. Renzi preoccupa. Lo stallo a centropagina. Invece la vicenda migranti con una foto notizia. Grecia, Macedonia, assalto al muro e a calè scontro migranti. Polizia, tensione al confine. In centinaia sfondano le barriere respinti. E passiamo adesso alla prima pagina del mattino quotidiano di Napoli. Si parla di sport. In apertura Napoli un pari con tanta fatica. A Firenze finisce 1-1. I viola colpiscono due pali. A centropagina caso Vendola. Strappo a sinistra. Boldrini, l'utero in affitto. E sfruttamento. La sorella di Nichi pazzi per Tobia. E dal mattino andiamo a vedere l'apertura del secolo d'Italia. Anche qui si parla del caso Vendola. Vendola diventa papà a suon di euro e donne sfruttate. E' un diritto questo, si chiede il secolo d'Italia. Poi le notizie in primo piano. Salvini a Roma. Se non ci uniamo siamo destinati a perdere il PDA i gay. Le cantano ad Alfano. Ma andovai se la banana non ce l'hai. E fanno il verso ad Alberto. Sordi, orrore a Mosca. Donna urla alla Akbar con la testa di una bimba in mano. E siamo davvero alla pazzia. Vediamo le notizie sportive con la Gazzetta. Dello Sport. Doppia apertura. A Firenze un calcio di qualità. Finisce 1 a 1. Viola e Napoli. Pari spettacolo. La Juve ringrazia. E ora è in fuga a più 3. In taglio alto invece si parla dell'Inter e della crisi nella quale versa la società nerazzurra. Allarme inter rinforzi finiti in panchina. Mancini nel caos. C'è paura. Questo dice la Gazzetta dello Sport. E si chiude qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti l'augurio di una serena giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.